allora ci siamo trovati a Lucca buongiorno buongiorno a tutti amici buona pesca sempre la sincerità paga sempre allora siamo ci siamo trovati alle 7 e 7 un quarto a Lucca sono le 10 alle 11 e si incomincia a pescare ora perché perché prima siamo andati nella parte alta siamo sul cerchio se abbiamo abbiamo deciso di cercare un posto nuovo quindi abbiamo perso del tempo a cercarlo cercando quando l'abbiamo cercato ed era bello su verso fornaci di barca un bellissimo posto un nostro amico ovvero sia Giacomo Palagi ci ha detto ciao Giaomino è che qua l'hai chiuso perfetto allora siamo riscesi ed è qua e siamo sotto il ponte del diavolo dopo si siamo circa un chilometro sotto il ponte del diavolo zona anchiano vicino allo stadio di anchiano e qua sotto ci sono delle belle correntine belline da morire delle belle piane delle belle piane e un bucone enorme dove secondo me ci sono dei pesci e li porti fuori la cartella li porta all'asilo da come sono allora proveremo a barbi e cavalli si prova vediamo quel che succede guarda bello gira fermati gira un po la telecamera tra così vai andiamo grazie a tutti 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 grazie a tutti